oggi prepariamo un secondo gustoso e semplice fusi di pollo al vino bianco e se ancora non l'avete fatto e vi fa piacere iscrivetevi al mio canale youtube e attivate la campanella per vedere i miei futuri video per prima cosa io insaporisco in anticipo la carne quindi all'interno di una ciotola mettiamo i nostri fuselli di pollo un mix di aglio e rosmarino tritato crostolanamente del sale fino e mettiamo anche del pepe nero grattugiato e quindi semplicemente andiamo a mescolare tutto così da massaggiare la carne e da fargli prendere un buon sapore tegame sul fuoco e un bel giro di olio e appena è caldo mettiamo i nostri fusi e una volta in padella li facciamo rosolare per bene almeno 3 minuti da entrambi i lati una volta che hanno rosolato aggiungiamo il vino chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere all'incirca 35 40 minuti ogni tanto mentre cuociono gli andate a girare i nostri fusi di pollo sono pronti con una gustosissima rosolatura e facciamo cuocere all'incirca